L'ENS, con il cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organizza il progetto Come ti senti? Campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde. Il progetto prevede varie attività, tra queste un corso di sensibilizzazione e formazione dedicato al personale che opera nelle diverse strutture sanitarie. Parliamo di infermieri, medici, fisioterapisti e altre figure professionali che lavorano in ospedali, aslanti, privati o pubblici su tutto il territorio nazionale. L'argomento principale del corso sarà la sordità. Gli appuntamenti formativi forniranno una panoramica sulle modalità comunicative e comportamentali e sulle esigenze della persona sorda, al fine di definire buone prassi per una piena accessibilità. Il corso, che prevede il rilascio di crediti ACM, Educazione continua in medicina, per diverse figure professionali, ha la durata complessiva di 30 ore e compreso di materiale didattico e si svolge in modalità e-learning assincrona. Il corso, inoltre, non prevede costi a carico dei partecipanti. L'ENS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, hanno deciso di offrire il corso, che sarà quindi completamente gratuito. L'obiettivo finale? Abbattere le barriere della comunicazione.